Dramma in piscina a Torano Scalo nel Cosentino muore annegato un diciassettenne di nazionalità rumena, inutili soccorsi, le indagini dei carabinieri di Rende per ricostruire la terribile vicenda. Nel nome di Sacco, alla vecchia tendopoli di San Ferdinando la visita dei parlamentari PD e mentre il presunto assassino di Sumaila resta in carcere, la polemica politica non si placa. Pena di 14 anni e la condanna che il Tribunale dei Minori di Catanzaro ha inflitto ad Alex Pititto, il sedicenne reo confesso per l'omicidio di Francesco Presti e Lamberti, sparò per gelosia ma molti punti sul caso restano oscuri. I nuovi cuccioli, la straordinaria storia della cagnetta seppellita senza pietà che riesce a dare la vita, la presa di posizione del movimento animalista e la battaglia di vittoria Michela Brambilla. La carica dei 20.000, ecco quanti saranno i tifosi del Cosenza al San Vito Marulla per supportare la squadra rosso-blu nella semifinale di ritorno dei play-off promozione contro il su Tirol. Servono due gol di scatto. Buonasera D'Alessio, buon passo da tutta la redazione, bentornati al nostro telegiornale. Partiamo dal drammatico incidente a Torano Scalo nel Cosentino che ha portato alla morte di un diciassettenne di nazionalità rumena. È morto annegato. La tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti nella piscina di questa struttura turistica situata allo scalo di Torano Castello, nel Cosentino. Un ragazzo di 17 anni, Gabriel Kazaciuk, è morto annegato poco dopo le 14. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si era appena gettato in acqua e è andato giù e non è più risalito. Era insieme ad alcuni amici. Secondo le testimonianze acquisite dai carabinieri della compagnia di Rende, giunti sul posto agli ordini del capitano Maieli insieme ai militari della locale stazione, il bagnino è intervenuto tempestivamente per tirare fuori il giovane dall'acqua. I gestori dell'albergo hanno subito allertato il 118 sul posto e atterrato anche l'elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo di nazionalità rumena, residente da qualche anno con la madre, a Torano, questa mattina si era recato a scuola, all'istituto industriale di Bisignano. All'uscita aveva preso il pullman ed era andato direttamente all'hotel. Sgomento tra amici, conoscenti e compagni di scuola, il sostituto procuratore di turno Giuseppe Cava ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Intanto in relazione all'omicidio di Sumaila Sacò, questa mattina la delegazione di parlamentari del Partito Democratico, guidata da Matteo Orfini, è stata a San Ferdinando ed ha visitato anche la vecchia Tendopoli. Costatare dal vivo le condizioni di vita dei migranti, dare solidarietà ai familiari e agli amici di Sumaila Sacò, il giovane sindacalista maliano ucciso a San Calogero ed offrire aiuto. Sono queste le motivazioni che hanno indotto una folta delegazione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico con in testa il presidente Matteo Orfini, a recarsi stamani prima al comune di San Ferdinando e poi alla Baraccopoli e a quel che rimane della Tendopoli. La prima ad essere arrivata alla sede del municipio per l'incontro con il sindaco Andrea Tripodi è stata la deputata Enza Bruno Bossio, poi i senatori Teresa Bellanova ed Ernesto Magorno. Giungono al comune anche Gennaro Migliore, Massimo Ungaro, Antonio Viscomi e il parlamentare europeo Andrea Cozzolino. Al sindaco di San Ferdinando tutti hanno ribadito a gran voce l'attenzione del PD per il suo comune, un comune sciolto tre volte per mafia e che oggi come ieri si trova di nuovo nella piena emergenza. Accompagnati da Don Pino De Masi, referente di Libera, in tarda mattinata è iniziato il viaggio del PD nella Baraccopoli. Qua hanno incontrato il cugino di Sumaila il quale ha sottolineato la volontà della famiglia di riavere presto la sua salma. Infine la visita è terminata alla Tendopoli dove le condizioni di vita grazie all'impegno profuso dalla prefettura, forze dell'ordine e associazioni di volontariato sono leggermente migliori ma dove la situazione rischia di precipitare ogni giorno. Ci tenevamo innanzitutto a portare solidarietà per quello che è accaduto, che è un fatto drammatico, l'omicidio di un lavoratore, di un migrante, di un sindacalista che cercava semplicemente di dare una mano ai suoi compagni di lavoro a vivere in delle condizioni migliori. Lo abbiamo fatto per visitare e verificare una situazione sicuramente di sofferenza sia nella Tendopoli ma soprattutto a visitare la Baraccopoli a fianco che invece è un girone infernale, un luogo che non dovrebbe esistere in un paese come l'Italia, in una delle principali potenze mondiali, un paese che partecipa al G7. C'è bisogno che anche chi ha vinto le elezioni se ne faccia carico, cioè che invece di dichiarare guerra ai migranti dichiari guerra ai caporali e alla mafia. Noi questo ci aspetteremo da un governo che ha davvero a cuore la sicurezza e non la propaganda. Noi siamo qua anche perché ci sarebbe dovuto venire qualcun altro che ha scelto di non venire, che ha scelto il silenzio in questi giorni successivi all'omicidio, ha scelto addirittura in alcuni casi come ha fatto ieri il ministro Salvini la via della provocazione. Quando un ministro degli interni arriva a dire che sì forse verrà quando troverà il tempo ma che non lo farà di certo in questi giorni perché preferisce andare a prendere la figlia a scuola che è a como e quindi molto più vicina a casa sua e più comoda, fa una dichiarazione abberrante, indegna non di un ministro degli interni ma di un essere umano. Angela Panzera per la CINUS24. Il GIP di Vibo Valencia, Gabriella Lupoli, al quale Antonio Pontoriero, unico indagato per l'omicidio di Sumaila Sacò, stamani ha risposto professando la propria innocenza, non ha convalidato il fermo ma ha comunque disposto alla misura cautelare in carcere e nel frattempo emergono nuovi dettagli sulle indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo. Poche ore di pressione mediatica e i congiunti di Antonio Pontoriero, l'unico indagato per l'omicidio di Sumaila Sacò, erano già sfiancati, intercettati dai carabinieri che le avevano convocati in caserma per interrogarli. Si vedevano i riflettori addosso e sentivano il cerchio stringersi proprio attorno a colui che a distanze di appena cinque giorni dalla pioggia di fuoco scatenata nella ex fornace di San Calogero sarebbe stato sottoposto a fermo. Antonio Pontoriero è inchiodato soprattutto dalla testimonianza dei sopravvissuti che hanno riferito perfino di averci parlato perché dopo aver sparato e ferita a morte Sumaila l'assassino sarebbe rimasto nei paraggi assieme alla panda bianca, eccola dopo il sequestro operato dai carabinieri, che i compagni della vittima hanno descritto consegnando anche parte della targa degli inquirenti. Una vettura, peraltro filmata da alcuni impianti di videosorveglianza, sulla quale sono attesi i risultati delle analisi scientifiche. Qualora mostrassero tracce di polvere da sparo, così come gli indumenti dell'indagato e lo stub, per Antonio Pontoriero la posizione processuale potrebbe davvero complicarsi ulteriormente. Pietro Comito per la CNews24. Nel frattempo è stata annunciata per lunedì prossimo la presenza del Presidente della Camera Roberto Ficco che visiterà la vecchia tendopoli di San Ferdinando. Intanto guardando alla politica regionale il Governatore Oliverio si dice pronto a lavorare per una grande coalizione che superi i confini degli schieramenti. Lo abbiamo intervistato, sentite. Noi stiamo lavorando molto sui problemi. Al centro bisogna mettere i problemi, prima di tutto la Calabria e naturalmente intorno a un programma che abbia questo asse, questo centro, noi lavoriamo per costruire una maggioranza con tutte le forze sane, democratiche, a prescindere da ogni collocazione perché si costruisca uno schieramento ampio, perché la Calabria ha bisogno di essere sostenuta da un ampio schieramento per affrontare i problemi. Credo che non si può mantenere uno schema vecchio delle etichettature. Il problema è dei simboli di partito, bisogna lavorare per uno schieramento ampio, uno schieramento civico, uno schieramento democratico che abbia, come dire, una bussola. Prima di tutto la Calabria. Il problema non è quando arrivi il congresso, il problema è di costruire un percorso per determinare le condizioni di una vasta alleanza civica su un progetto di cambiamento, quale è quello che noi abbiamo intrapreso. Adesso la cronaca giudiziaria. Il Tribunale dei minori di Catanzaro ha condannato a 14 anni di reclusione Alex Pititto, assassino reoconfesso di Francesco Prestia Lamberti. 14 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici. È la condanna che il Tribunale dei minori di Catanzaro ha emesso nei confronti di Alex Pititto, sedicenni di Mileto, reoconfesso dell'omicidio del coetaneo Francesco Prestia Lamberti, avvenuto il 29 maggio 2017 nella cittadina vibonese. Viene così scritta una prima verità giudiziaria su un caso che ha enormemente scosso la comunità, destando innumerevoli interrogativi di carattere sociale e costringendo famiglie e istituzioni scolastiche e religiose a confrontarsi sulle dinamiche che agitano nel mondo adolescenziale, nei piccoli e grandi centri urbani. Numerosi moniti in questo senso sono arrivati da Marzia Luccisano, madre dell'adolescente ucciso, che ha esortato i giovani a parlare, ferma nella convinzione che Pititto possa non aver agito da solo quella maledetta sera e che molti in paese conoscono quella parte di verità ancora non emersa. Come i ragazzi che lo stesso Pititto avrebbe minacciato di morte nei giorni precedenti l'omicidio, in preda alla gelosia per una ragazza contesa, individuando in Prestia Lamberti un rivale da eliminare, adolescenti costretti a inginocchiarsi sotto la minaccia di un'arma o presi abbastonate e minacciati non dire nulla. Uno spaccato di gioventù violenta, intriso di cultura mafiosa, che sconvolge le coscienze. Ora lo condanna a 14 anni, colletto in uanti per la minorità, a fronte di una richiesta alla procura di 16 anni di reclusione. Una sentenza che fissa un primo punto, ma che certo non basterà a allenire il dolore della famiglia né a dare una ragione ad una morte assurda. Stefano Mandarano per la CNews24. Restiamo alla cronaca, torniamo ad occuparci dell'omicidio di Ferdinando Portoraro, il boss della Sibaritide ucciso a Villapiana l'altro ieri, le ultime novità proprio in questo servizio. I lavori pubblici sarebbero stati da sempre il campo d'azione preferito da Leonardo Portoraro, il boss di Francavilla Marittima, assassinato da un commando di fuoco lo scorso mercoledì 6 giugno a Villapiana Lido. Narduzzo aveva trovato il suo dominio nel settore del cemento pesante, dell'asfalto e delle grandi opere civili. Una smania che probabilmente gli è costata la vita. Uno strano destino quello di Portoraro, che è stato legato a doppio filo a criminalità e calcestruzzo sin dagli anni 80. In 30 anni di attività criminale, Portoraro avrebbe costruito la sua figura di boss specializzato in appalti e lavori pubblici, mattone su mattone. Nel silenzio e sotto traccia pare abbia messo mano su quasi tutte le opere realizzate nel territorio dell'Alto Ionio, ma la gallina dalle uova d'oro sarebbe arrivata solo di recente. Il 9 maggio scorso al Museo di Sibari, Regione Calabriana, si annunciano l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'ammodernamento della Statale 106 nel tratto Sibari-Roseto. Un'opera da 1,3 miliardi di euro, sette anni di lavoro, oltre 1.500 posti per carpentieri, minatori, muratori, ruspisti e manovali. Il più grande candiere d'Italia è Soldi sull'Unghia. La più grande opera pubblica dello Stato in Calabria in casa del ministro dei lavori pubblici dell'Andrangheta. Un boccone troppo appetitoso da condividere con tutti. Ed è stata forse questa presunta avidità ad essere fatale a Portoraro. Intanto la DDA di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, continua ad indagare, scandagliando con perizia e dovizia ogni minimo particolare. La verità sull'omicidio Portoraro, infatti, potrebbe ricostruire un quadro ancora più chiaro e completo sulle dinamiche criminali, non solo nella Sibaritide, ma nell'intero territorio calabrese. Marco Lefosse per la Cineus 24. Adesso l'accorato appello del Garante per l'infanzia della Regione, Antonio Marziale, per sostenere la famiglia di un bambino pensato in ospedale sin dalla nascita. Moise ha due anni e mezzo, è nato a Polistena, ha problemi gravissimi di salute, dopo una permanenza di quasi un anno all'ospedale di Polistena, adesso è al Policlinico di Messina. Necessita di un trasbordo a Cagliari, dove c'è una comunità pronta ad accoglierle, assistenza medica, però dopo un'ordinanza del magistrato, del presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, il bambino ancora, a distanza di un anno e mezzo, non ha lasciato il Policlinico di Messina. Nessuno dei soggetti interessati dall'ospedale di Messina agli enti regionali si è assunto la responsabilità e l'onere di garantire il trasferimento, chiedendo addirittura al Garante di farsene carico con un volo di linea personale specializzato. Operazione altamente a rischio, in quanto servirebbe un volo speciale per un bambino che soffre di una terribile malattia e si trova in stato di precoma vegetativo. Da qui l'indignazione di Marziale. Mi dico indignato con una burocrazia di merda, se volete scrivete di merda perché tale è, perché di fronte a un caso del genere non ci sono cavilli che tengano, non ci sono deficit delle casse delle pubbliche amministrazioni che possano tenere. Infine l'appello del Garante per l'infanzia. Per cui il mio appello alle istituzioni è che qualcosa si muova e che qualcosa intervenga e il bambino possa raggiungere la destinazione prima che sia troppo tardi. Perché piangere dopo non serve a nessuno. Riccardo Tripepi per la CNews 24. Accordo trovato ed occupazione terminata al Teatro Grandinetti di La Mezzia Terme dopo i rilievi dei tecnici del Comune, le associazioni di danza che stavano inscenando la protesta, come vedete in queste immagini, hanno deciso di far slittare di una settimana i saggi. Nel frattempo dovrebbero essere portati a termine gli adempimenti che permetterebbero il rilascio del certificato di agibilità per la struttura. Finisce così una protesta infuocata che aveva visto riversarsi in strana decine di famiglie con bambini che dopo aver avuto le autorizzazioni per utilizzare gli grandinetti per i saggi di fine anno si erano viste revocare il permesso. Adesso una storia davvero struggente, quella che ci viene dal Cosentino. Una cagnetta viene seppellita viva ma mette al mondo nove cuccioli. L'ultima terribile storia di maltrattamenti agli animali arriva da Marano Marchesato nel Cosentino a renderla nota è stata la parlamentare Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leida, la Lega Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente, nel corso di una conferenza stampa organizzata alla Camera, dove la deputata forzista si è presentata con una cesta piena di cuccioli, nove per la precisione, venuti al mondo da pochi giorni. Al suo fianco la delegata della Leida Cosenza Gisella Grande, che in questo filmato mostra il luogo dove la madre di queste creature ha partorito, dopo essere stata maltrattata, incaprettata, ovvero legata per le zampe, semisepolta viva sotto un mucchio di foglie e rami secchi. In preda alla sofferenza la cagnetta è stata notata da alcuni passanti, sono allora intervenuti i carabinieri dei volontari del Movimento Animalista. Con l'aiuto di un veterinario, Luce, questo il nome dato all'animale, ha dato alla vita 11 cuccioli, due dei quali non sono sopravvissuti, prima di spegnersi per le ferite riportate. L'episodio è l'ultimo di una serie di casi eclatanti di Vilievo Nazionale. La Calabria purtroppo ancora una volta si macchia di un orrendo crimine, è una scia di sangue di fronte al silenzio delle istituzioni, che sono obbligate per legge, dalla legge 281 del lontano 1991, comuni ed aspe, o asle come vengono chiamate in alcune regioni, a occuparsi del fenomeno del randaggismo. I sindaci sono responsabili dei cani vaganti sul territorio e degli altri animali e devono custodirli in strutture adeguate e devono insieme all'ASP provvedere alla prevenzione del randaggismo attraverso la sterilizzazione, ma anche attraverso dei piani e dei progetti di educazione e informazione alla cittadinanza. Salvatore Bruno per la CINUS24. Una notizia appena abbattuta dalle agenzie. Un settantenne di Canna, in provincia di Cosenze, è morto cadendo da un'impalcatura. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo si trovava su un ponteggio eretto, su una struttura di sua proprietà per dei lavori, quando per cause in corso d'accertamento è caduto. Immediato intervento dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso di Cosenza, ma l'uomo è morto sul colpo. Scuole sempre più sicure. Nella provincia di Catanzaro, l'amministrazione provinciale ha incassato risorse importanti per la messa in sicurezza di quattro istituti. Guardate. Per quanto ci riguarda, la sicurezza dei ragazzi e dei cittadini, per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono prioritarie. La messa in sicurezza delle scuole continua ad essere una priorità della provincia di Catanzaro, che ha ottenuto dei finanziamenti regionali per 15 milioni di euro, destinati a interventi di adeguamento sismico o eventualmente demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici di competenza dell'ente. In particolare, i progetti ammessi ai finanziamenti riguardano l'istituto magistrale Tommaso Campanella di La Mezzia Terme, l'istituto di istruzione superiore di Chiaravalle Centrale Enzo Ferrari, l'istituto tecnico commerciale Grimaldi di Catanzaro e l'istituto da Vinci di La Mezzia Terme. Sono molto soddisfatto perché intanto le nostre scuole sono quelle che nel sistema regionale della divisa scolastica sono le più sicure. In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro di messa in sicurezza, ma la soddisfazione ancora più grande è che siamo riusciti ad intercettare decine di milioni di risorse per metterle in sicurezza anche dal punto di vista sismico. E intanto si pensa già ad altre opportunità offerte dai nuovi bandi regionali. Punteremo ancora di più a recuperare risorse affinché i 36 edifici scolastici della provincia siano sempre di più capaci di garantire sicurezza ai ragazzi. Parteciperemo anche al nuovo bando che è stato varato dalla giunta regionale pubblicato il 31 di maggio e scade il 3 luglio. Rossella Galati per la CNews24. Guardate invece come sono costretti a vivere i cittadini di Zangarona, frazione Arbresch, sopra la Mezzia Terme. Da quant'è che non possono pulire? Sono anni! Sono anni che non puliscono. Strade franate mai rimesse a posto, manutenzione del verde pubblico inesistente da anni, mura crollate su di rupi e sostituite con barriere d'emergenza diventate definitive. Quello che vive Zangarona, frazione Arbresch di La Mezzia Terme, abitata da 400 anime, è una vera e propria situazione di abbandono, con casi estremi di grave pericolo anche per l'incolumità pubblica, denunciati da anni dai cittadini senza ottenere nessun risultato. Così da anni. L'unico intervento che fanno, quando ti lamenti più del dovuto, vengono, rimettono il cartello e se ne vanno. Non hanno mai avuto nemmeno la compiacenza di rimuovere la frana, praticamente. E sono diversi gli esempi di frane mai rimosse o di strade che non vengono interdette al pubblico e sono regolarmente percorse dai cittadini tra vegetazione incolta e cedimenti strutturali. I casi limite sono tanti. Questa è una strada all'interno del paese che è molto frequentata dai residenti perché è una strada che si riesce a percorrere con quel classissimo tipo di mezzo e sono la bellezza di 5-6 anni che ci troviamo in queste condizioni. Nelle strade la vegetazione cresce rigogliosa. Situazione del verde pubblico a cura dei cittadini perché praticamente non c'è nessuna manutenzione né periodica né in nessun modo. Abbiamo avuto il dibattito con l'amministrazione Speranza poi con quella Mascaro e adesso stiamo andando avanti con i commissari ma non c'è nessuna risoluzione alquanto praticamente. Tiziana Bagnato per la CNews24. Storie di innovazione digitale alla Camera di Commercio di Cosenza nell'ambito di una giornata di formazione denominata Open PID. C'eravamo anche noi. La Camera di Commercio stimola le imprese alla innovazione con una giornata di formazione e networking sulle tecnologie 4.0. La Kermess denominata Open PID è organizzata dal punto impresa digitale dell'ente camerale. Un riferimento a disposizione del tessuto produttivo locale che offre indicazioni, sostegno e assistenza per districarsi nel percorso di innovazione dal quale le aziende non possono più prescindere. In realtà noi siamo oggi alla quarta rivoluzione industriale pervasiva, riguarda tutti gli ambiti, è rapida e velocissima e quindi le imprese possono avere una serie di vantaggi di vario tipo. Abbiamo anche un bando con il quale eroghiamo contributi alle imprese in materia di assistenza e consulenza 4.0 quindi tutte le cosiddette tecnologie abilitanti fino a un importo complessivo di 200.000 euro circa. 5.000 euro ad impresa. L'esigenza che gli imprenditori possono soddisfare attraverso il punto impresa digitale è esattamente quella di capire quanto sono digitali o quanto sono distanti effettivamente dalla digitalizzazione. Quindi li guidiamo in un percorso alla scoperta di quelle che possono essere le tecnologie digitali che possono aiutarli ad innovarsi, a migliorarsi e ovviamente a produrre anche più profitto. Due le sessioni ospitate nella Sala Petraglia dedicate rispettivamente ai servizi come commercio e turismo e al Manifatturievo a cui hanno partecipato i rappresentanti di alcune imprese selezionate attraverso una manifestazione di interesse e chiamate a raccontare la propria esperienza. La sfida dell'ente camerale guidato da Klaus Salgevi è anche quella di applicare la rivoluzione digitale mantenendo storia e tradizione aziendale. La tecnologia è qualcosa oggi di particolarmente diffusivo e non deve essere un limite per l'azienda anzi è un'opportunità per le aziende che ritengono utile di volerla utilizzare e di utilizzarla mantenendo la tradizione aziendale. L'identità deve assolutamente restare quella. Salvatore Bruno per la CNews24. Restiamo a Cosenza parlando però di calcio guardando soprattutto al sogno Serie B del Cosenza e dei tifosi del Cosenza un sogno che sembra impossibile eppure non lo è. Sembra impossibile, è vero eppure non lo è. Sembrava impossibile prima eppure non lo è stato. Certo, dopo il gol di Cia sul gong al Druso di Bolzano le cose si sono complicate ma volare in finale playoff non è impossibile, appunto. Intanto bisogna recuperare il gol di svantaggio e possibilmente staccare il sottilolla di due marcature sono le due reti di scarto e infatti consentirebbero ai lupi di raggiungere una tra Siena e Catania per la sfida che vale la Serie B. Da evitare assolutamente quindi distrazioni difensive che possano spenare la strada alla rete ospite con il risultato di 2-1 3-2 4-3 via dicendo Cosenza e Suttiroll si giocherebbero al passaggio del turno e ai tempi supplementari Stessa cosa accadrebbe nel caso in cui la formazione di Braglia dovesse chiudere 90 minuti regolamentari per 1-0 Inutile ricordare che in caso di segno X e vittoria ospite con qualsiasi risultato sarebbe il Suttiroll a sorridere di gusto Insomma sembra impossibile ma non lo è alle sue compasso per la CINUS24 Un altro sogno chiamato Serie A invece per la formazione di pallannuoto del Crotone Non esiste solo il calcio nella città di Pitagora esistono tante realtà sportive definite minori ma che non sono inferiori a nessuno è il caso della rarinante Sauditore Crotone formazione di pallannuoto attiva da oltre 70 anni che ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento molto importante per lo sport La formazione allenata da mister Keiko Arcuri si gioca ai playoff per accedere al campionato di Serie A contro la Roma 0-9 L'andata si giocherà sabato 9 giugno nella Capitale in ritorno il prossimo 16 giugno alla piscina olimpionica di Crotone Più o meno penso che sia una squadra come la nostra attrezzata con dei buoni giocatori e sarà sicuramente un bel incontro di playoff Credo che entrambe le squadre saranno preparate a dovere la differenza principalmente sarà più di testa e di voglia di forza di volontà di cuore caratteristiche che sicuramente a noi crotonesi non mancano i ragazzi sono motivati è un traguardo importante vedremo un po' quello che ne verrà fuori in queste due partite e poi si vedrà io invito tutti a venire sabato prossimo 16 alle 18.30 a farci sentire il loro calore noi andiamo in acqua alle 17.30 quindi già averli sugli spalti e già averli a fare il tipo per noi avere qualcuno a fare il tipo per noi sarebbe importantissimo e bellissimo soprattutto era il nostro ultimo servizio grazie e buona serata visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la C-News 24 edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30 la C-News 24 la Calabria che fa notizia